Vi trovate la ricetta per un piatto tipico della Louisiana, ve lo suoniamo, intanto dal testo della canzone non si capisce quello che è, bisogna metterci dentro nella giamba, ci sono solo due corne forse, c'è lei, sono dodici pretendenti, e c'è lui che mangia, perché alla fine gli rimane solo quello, però è una canzone molto divertente di un grande artista che ormai è scomparso, ma è sempre tra i nostri cuori, Francis, alla voce della pitana. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti